Il futuro negato, progetti e sogni di adolescenti e giovani romani, è la ricerca realizzata dalla Caritas di Roma. Nell'arco di un anno sono stati coinvolti in 16 gruppi formati da adolescenti delle scuole e delle parrocchie romane per approfondire temi legati all'impegno politico e sociale e progetti futuri. Isabella Di Chio. Giuseppe è un insegnante del liceo Primo Levi di Roma. Roma è stato uno dei coordinatori dei focus al quale hanno partecipato giovani delle scuole superiori e delle parrocchie della capitale. Questi 16 gruppi hanno permesso di realizzare la ricerca della Caritas di Roma dal titolo più che mai eloquente Il futuro negato, progetti e sogni degli adolescenti romani. Hanno avuto l'occasione per parlare e è stato molto intenso, quindi è stato anche molto edificante per sentire loro quello che loro effettivamente pensavano, volevano, riguardo al loro futuro. La ricerca è stata curata dal sociologo Mario Pollo. Parole chiave sono memoria, futuro, cambiamento, presente, social network e sogno. I ragazzi molto spesso non pensano che il futuro possa essere in qualche modo diverso da quello, da ciò che vivono adesso che il loro impegno, il loro lavoro, la loro azione possa modificare il futuro della società. Semi di speranza arrivano dall'attenzione per l'ambiente, i ragazzi sono disorientati. Giovani pur se disorientati, pur se a volte schiacciati sul presente perché non riescono ad immaginarlo, il loro futuro. Qui si stanno generando i germi perché i giovani comincino a fare qualcosa di diverso. Che cosa si può fare per aiutare questi giovani? Sederci ad ascoltare i ragazzi giovani e poi gli adulti si assumano la responsabilità di immaginare il futuro. Il materiale della ricerca è consultabile sul sito www.caditasroma.it